E' stato Fabri Fibra uno dei pesi massimi della scena rap italiana a chiudere l'edizione 2022 del Mingo Music Fest. Il rapper sul palco Aretino ha portato la prima tappa italiana del suo Chaos Live Festival 2022. L'artista infatti è reddice dell'uscita di Chaos, il decimo disco di studio che arriva a vent'anni dalla pubblicazione del suo primo album, Turbo e Giovanili, e a cinque dall'ultimo disco, Fenomeno. Un tour dunque iniziato da Rezzo nell'unica serata a pagamento del festival, subito sold out. Si chiude così la diciottesima edizione del festival che ha registrato 45.000 presenze al Parco del Prato, 30 artisti che sono saliti sul Parco del Mingo, uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all'urban, dall'elettronica al rap, sino al cantautorato. Continuata dov'è? All'est fantasy che l'accando è elegante. Grazie.